Quando riguarda l'esperienza sul mio figlio, posso dire che questo è un metodo molto importante anche perché mio figlio riesce ad apprendere tutto ciò che è sotto forma di gioco quindi io credo che questo metodo lo potrà aiutare tanto sia adesso e portarlo io spero, tra virgolette, in un futuro che mio figlio con questo metodo e con altro che fa possa migliorare Auguri, auguri